Come ogni domenica, anche stamattina a Roma si sveglia il suono del cuore. A primo di un dono già libero, se intangono le spoglie di un don d'anno. Si sono alzati con comodo i nostri ragazzi. Durante la settimana lavorano quasi tutti e studiano alla scuola senale. Tedi sera, molti di loro hanno fatto tardi a Ponte Milmio per salutare il passaggio delle mille miglia. Fanno quasi tutti il tifo per te. Le famiglie invece hanno fatto colazione insieme. Hanno commentato le notizie del messaggero. La strada di Fellini, candidato all'ostra. Molte mamme hanno portato le figlie a San Pietro per la benedizione del Santo Padre. Che bel papà, così alto, magro, ascetico. Poi il pranzo. Concluso con le tradizionali pastarelle. E poi via, padri e figli allo stadio. C'è stata la Roma, ha vinto con un gol di Norda. Le mamme hanno preferito il cinema. Ovele ma belle. C'è chi invece ha fatto la coda per lassù qualcuno mi ama. Nell'intervallo ci è scappato pure un mottaello. E finalmente è scesa la sera. Adesso iniziano a cantare. I ragazzi del nostro quartiere si sono dati a Ponte Milmio. Perché se no uno pensa che andiamo avanti tre ore così. Dietro il giardino c'è un ristorante. Ma è qui che i ragazzi e le ragazze si tolano. Si gioca a flip, si chiacchia, si balla. Si balla e si chiacchia. Si balla di luci e colori. La più eccitante invenzione del decennio. In a Jukebox. E così qua. Non c'è tanto ancora. Non c'è tanto ancora. Perché? Forse ci siamo. Adesso cantiamo.